Parliamo di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale, tra i più grandi mai rivenuti sul territorio nazionale. È attivo, presenta tre congeni di attivazione, i rischi sono legati alla rimozione di questi congeni, sono delle vere e proprie operazioni chirurgiche dove gli artificieri dell'esercito italiano rimuoveranno questi congeni con delle attrezzature particolari, abbiamo stimato circa 5 ore per l'intervento, tenete presente che non è un ordigno facilmente ritrovabile sul territorio nazionale, abbiamo rivenute soltanto 6 finora. Questo è un ordigno che nasce per esplodere, per annientare, distruggere quelli che erano i siti strategici del conflitto mondiale. Nel team di artificieri ci sono due operatori che hanno già operato in contesti del genere. Come dicevo prima, sono talmente tanto rare. Io personalmente è il mio primo intervento su una bomba d'aereo di queste dimensioni, ripeto, tra le più grandi mai rinvenute sul territorio nazionale. Le attività si svilupperanno con una prima fase in cui verranno rimosse le spolette, che sono i congeni di attivazione dell'ordigno. In questa bomba in pratica sono tre. Dopo aver rimosso questi congeni di attivazione, la bomba verrà trasportata tramite un autocarro presso Monte Romano, dove effettueremo un'operazione per mettere in sicurezza l'ordigno, svuotando il caricamento esplosivo, sono circa 1300 kg di esplosivo. Siamo a Viterbo, la protettrice di Viterbo è Santa Rosa e qui proprio a Viterbo ne sono state rinvenute due, questa è la seconda. Per non esploderne due vuol dire che Santa Rosa magari ha protetto questa bella città e i Viterbesi. Diciamo che l'esplosione di questo ordigno oggi non conosceremmo Viterbo così come la vediamo. Sarebbe diverso se fosse esplosa, se fossero esplose. Quindi Lady Rose in onore di Santa Rosa.